Ehi, non vedi che sono qui? Ecco uno scanner. Trova il pannello di controllo e manomettilo per inserirci il nostro software. Verrà disattivato senza che gli uomini delle PC se ne rendano pronto. Sì, ricevuto! Sì, ricevuto! Fantastico! Il software sembra funzionare. Passiamo agli altri scanner. Non è solo il software. Non è solo il software. Non è solo il software. Sì, qual'è l'iosità? Abbiamo un problema. In Ork hanno un sito di lancio di nebulizzatori pronto e lo useranno per gassare le altre zone riservate. Ho bisogno che te ne occupi prima che lanci quei maledetti nebulizzatori. Abbiamo bisogno di altre mascherie di gas, torna alla vostra. Abbiamo bisogno di più. Abbiamo bisogno di più. Abbiamo bisogno di più. Abbiamo bisogno di più. Questa! Dimitri! Fuoco! Dimitri! 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 Vai col secondo scanner. Procedi esattamente come poco fa. Ma non metti il pannello. Intenta! Surtenta! Tutte le zone rosse sono aree inaccessibili ai civili. Tutte le zone rosse sono rosse. 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 Tutte le zone rosse. Tutte le zone rosse sono rosse. Tutte le zone rosse. Tutte le zone rosse sono rosse. Grazie a tutti Se l'ascensore non funziona cerca di trovare un altro modo per salire Brady Grazie a tutti Ho sentito su un treno vuoto che sta tornando dal cantiere navale Ti raggiungerò a breve Nel frattempo tu pensa ad attivare i sistemi in modo che il treno si fermi Credo che funzioni Il treno sta rallentando Brady, sali! Presto, o noteranno qualcosa che non va Beh, ci siamo Se ti scoprono, siamo entrambi morti Spero ne valga la pena Il sabotaggio degli scanner ha funzionato Siamo fuori dalla zona rossa Questa è la zona gialla di Ashgate O distretto dei collaboratori Mille cose non funzionano come nel resto della città Ogni ufficiale di collegamento conduce uno standard di vita molto elevato Dato che le autorità sanno quanto i collaboratori vengano disprezzati dagli altri cittadini Hanno dovuto rendere appetibile questo lavoro Questo è ciò che l'EPC ha propinato da quando è qui Operazione per ricostruire l'America e per ripagare i debiti E qui la gente ci crede ancora O almeno finge di crederci Molte persone godono nell'avere finalmente un po' di potere Glielo leggi negli occhi La vendetta per tutta la merda mangiata prima che arrivasse l'EPC Ma veniamo alle indicazioni pratiche Qui ci sono soprattutto ufficiali ma anche operai E tu sarai uno di loro Dubito che i miei colleghi riconosceranno la tua faccia Ma i soldati saranno più vigili che mai Quindi tieni le distanze Non me la passo certo bene qui Vivo col timore che mi scoprano, che mi torturino e che mi uccidano Ma non tutte le guerre se vincono solamente con le armi Dovrei ricevere più riconoscimenti per il mio contributo alla causa, non trovi? Non sarà un problema farti passare Lascia che a parlare sia io Crawford! E chi è questo? Non ho il permesso di dirtelo, hai informazioni sui terroristi Sul serio? Beh... Non è sulla mia lista Certo che no, ma non puoi pianificare queste cose È una questione urgente, quindi facci passare Vieni qui Avanti Ho sentito parlare di te, Crawford Dicono che fai sempre cazzate del genere Ignorare il protocollo Dovrò segnalarti Beh, forse farò una segnalazione Perché ho sentito cose anch'io, Harris Tipo che quando sono venuti a prendere tua figlia per portarla nei campi Hai detto che era stata uccisa durante i tumulti Ma una perquisizione nel tuo appartamento potrebbe resuscitarla Scusa il disturbo Nessun disturbo Non vogliamo che succeda, vero? Andiamo, devi fare rapporto Un altro nemico per me Ma è solo questione di tempo Prima che tutto mi si rivolti contro Devo andare a prendere Parrish Finché Harris è ancora in servizio Tu devi consegnare il pacchetto Non restare in mezzo alla strada troppo a lungo Se no attiri l'attenzione Brady, ci sei? Tenevo che il piano di Crawford non funzionasse Invece è quel figlio di puttana e permaloso Ma sa come rendersi utile Ora... La persona a cui voglio che consegni il cervello è Aether È un genio della tecnologia Se c'è qualcuno che può capirci qualcosa è senz'altro lei Sto trasferendo le coordinate del suo rifugio sul tuo cellulare Se la fortuna di Crawford continuerà ad assisterci Presto riuscirò a raggiungerti lì Però dammi retta Ashgate sarà pure piena di culottatori Devi comunque cercare di portare altra gente dalla nostra parte E cogliere ogni opportunità Per infiammare il caso Presto Così otterremo appoggio nel quartiere No, no... Aiutami, ti prego! Aiutami, ti prego! Francesco Mant recently Manteguite la carta Mi segnalate Che è stato un'altra parte Mi ricorda che il padre è stato messo Non l'abbiamo Quando vengono Ma non l'abbiamo Non l'abbiamo Il livello attuale del click In questo mondo devi cavartela da sempre o per le altre zone. Brady, ci è stato segnalato che l'EPC controlla una galleria che collega Ashgate e Holloway. Di certo la sorveglianza non manca, ma se riuscissi a liberarla avremo un accesso migliore a quella zona. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se assistete a un'attività sospetta, segnalatela immediatamente. Il terrorismo non deve essere tollerato. Come vorrei che gli attivano avanti della nostra sicrenza. Vattene da qui, faccio distruzzo della resistenza Vattene, non vogliamo la resistenza nel nostro quartiere Vattene, non vogliamo la resistenza Da qualche parte dentro quel magazzino Devi manomettere la rete delle pc In modo da consentirmi di usare il loro segnale Per capire come comunicare con il nostro Goliath Quando sarà finalmente operativo Si sono verificati gravi disordini in questo settore Mantenete la calma, è tutto sotto controllo puoi Una pallga di fiori La fine tra tai Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! In questa zona si è verificato un grave incidente. Restate dove siete e qualora vi sia richiesto, assistete gli agenti di pace nelle indagini. Immobile! Grazie per la visione! ...quando ci troveremo alle strette. Ce ne serve uno nuovo di zecca, capito? Non rischiate la vita cercando di affrontarne e metterne fuori uso uno. Tutte le razioni avanzate possono essere impacchettate e recapitate al nostro quartier generale di distribuzione di cibo per essere... Ottimo lavoro, Brady! Brady, stai convincendo la gente a reagire in quel quartiere. Ho sentito che alcuni vogliono schierarsi dalla nostra parte. Continua così. Riprendetevi la nostra nazione. Siamo solo onde che si muovono nel tempo. 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 Si sono verificati gravi disordi. È in arrivo una squadra di investigazione. Mantenete i primi del lontano nascito. Attività terroristica rilevata in quest'area. Mantenete la calma. Chiudere! Ottimo lavoro, brevi. Ora abbiamo un collegamento diretto con Ashgate. Possiamo iniziare subito a inviare personale e scorte per aiutare i civili. Rispondi, fili alfa. Qui in fili alfa, procedete. La ricerca di un Goliath non sta portando frutto. Non abbiamo forza alle aree dove i norche potrebbero tenerli. Ricevuto. Perry ci sta parlando con dei contatti interni. Speriamo che abbiano qualche informazione utile. Sei salito sulla monorotaglia dei norche. Sei matto, lo sai? Hai mai avuto dei... Basta, Cristofan. Basta. Mantenete il crimine lontano da Ashgate, come esempio per le altre zone. Il livello attuale del crimine... No.